Ciao ragazzi! Questo è un video annuncio molto importante e per questo motivo vi chiedo di guardare il video fino in fondo e se volete lasciare un like in modo da raggiungere più persone possibile su YouTube che seguono anche ovviamente il canale principale perché domani alle 14 uscirà una nuova tipologia di video. Infatti come tanti altri canali hanno già fatto anche io ho deciso di caricare il mio primo video shorts. È un video molto veloce che tratta di un argomento specifico in questo caso domani tratterò l'irrigazione del mais e speriamo vi piaccia. Questo ovviamente è solo un esperimento fatemi sapere cosa ne pensate all'interno dei commenti e niente dai noi ci vediamo domani alle 14 sul canale principale. Buona serata a tutti!